Mercoledì 10 luglio tanti fedeli hanno gremito la Basilica di San Paterniano per il solenne pontificale preseduto dal Vescovo Armando in occasione della festa del Santo Patrono San Paterniano. Oggi ci stiamo rendendo conto che la nostra evangelizzazione normale, ammessa in evidenza al Vescovo, presuppone la fede, non riesce a generare la fede. Tanti praticanti non sono credenti. Abbiamo il dovere di ripensare modi per generare e rigenerare la fede che porti ad un vero incontro con il Cristo dei Vangeli e è alla fine di un certo cristianesimo nel quale non si poteva essere altro che cristiani. Comunicare il Vangelo oggi non significa solo inserire contenuti religiosi nei siti internet, nei blog o nei social network. Significa soprattutto testimoniare con coerenza il Vangelo nel modo di relazionarsi con gli altri, testimoniando uno stile diverso. Fatto di onestà, apertura, responsabilità e rispetto. È un cammino delicato e lungo ma che bisogna percorrere in fretta. Occorre altresì ripensare una profonda fiducia nei grandi insegnamenti della nostra fede, ha proseguito il Vescovo Armando, ma anche una grande umiltà di fronte al mistero dell'amore di Dio, mendicanti di fronte alla verità, sospinti dal desiderio di imparare tutto quello che chiunque altro può insegnarci. Iniziare la vita cristiana è il compito della catechesi graduale, ordinata, permanente, per quanto possibile completa. Essa segue l'annuncio del Vangelo e la prima opzione per Gesù. L'annuncio suscita una piena adesione, una sorta di innamoramento, una scelta, un decidersi per Gesù. Ed è a questo punto che interviene la madre chiese, prende per mano chi è stato afferrato da Gesù e lo conduce per gradi ad essere a lui somigliante.